E' morto a soli 49 anni per complicanze dovute al covid. Massimiliano Livo si è spento venerdì 14 gennaio. Lavorava per un'azienda di scavi ed era un volontario della Croce Rossa di Monfalcone. Nell'ultimo periodo non lavorava in quanto non vaccinato. Massimiliano si è ammalato a dicembre e poi si è aggravato. Dal pronto soccorso di Monfalcone è stato trasferito alla pneumologia di Catinara prima e in terapia intensiva poi. Purtroppo i sanitari non sono riusciti a salvargli la vita. A porgere le condoglianze alla famiglia anche il sindaco Anna Maria Cisint. Immediatamente ho cercato di contattare la famiglia attraverso la sorella e quindi ci siamo scritte. E' stato un grande dispiacere, un grande dispiacere. Dispiace sempre quando qualcuno ci lascia. In questo caso la persona è anche giovane perché a 49 anni hai una vita davanti, un ragazzo in gambissima che ha dato tanto a questa città perché era tra i volontari della Croce Rossa. Noi abbiamo veramente una Croce Rossa che funziona fatta di tante persone per bene che lavorano e Massimiliano era uno di quelli. E quindi siamo veramente molto dispiaciuti. Devo dire che Monfalcone ha perso in questi due anni almeno sei persone. Perché purtroppo diciamo che comunque questa malattia non ha risparmiato nessuno. Noi abbiamo avuto un esempio di sopravvivenza con il nostro comandante Bagatto che è stato cinque mesi intubato, è stato intubato otto volte. Lui quando ci racconta quello che ha vissuto tu sei grato di quello che hai ogni giorno. Massimiliano Olivo oltre alla famiglia lascia tantissimi amici, in particolare l'affezionato gruppo che assieme a lui condivideva la grande passione per la moto. Post di lutto a decine sulla sua pagina Facebook piena di dolore nel ricordo di una persona speciale.